salve ragazzi benvenuti in un nuovo episodio della serie principale di minecraft siamo qui nel sesto episodio come al solito ragazzi registro i video sempre mentre sono in live cosa andremo a fare oggi andiamo a fare il magazzino perché non c'è più spazio nella cesta quindi dobbiamo fare il magazzino perché qui non cacciano più di un paio di ceste messe incroce come dobbiamo fare ragazzi questo magazzino io credo proprio che lo faremo prendendo ovviamente gli alberi lo voglio fare in legno ecco quindi adesso penso che andrò a prendere un bel po di legna e poi ci rivedremo dopo non credo di volerlo fare in bedulla ragazzi in realtà io il magazzino quant'anni abbiamo preso 33 può bastare voi che dite ragazzi per il momento basta adesso vediamo cosa possiamo fare con questi 33 pezzi raga ma dove lo possiamo fare sto magazzino perché lì abbiamo il portale del nether qui abbiamo il tunnel lì abbiamo la forma di grano qui dentro invece c'è la il rifugio di lessa drazen adesso vi faccio anche vedere perché è molto molto piccolo eccolo quindi raga sto conto io lo faccio lì di fianco al portale del nether perché mi sembra il posto più adatto allora possiamo no ragazzi ovviamente devo fare abbastanza piccole tanto iniziamo a delimitare lo spazio ok raga diciamo che è abbastanza piccolo delimitato lo spazio poi con 16 mi faccio qui gli assi iniziamo a piazzarli ragazzi poi vediamo un po dove facciamo le porte ne facciamo una singola poi raga qui no lo facciamo un blocco più alto almeno dai poi chiudiamo normalmente ok poi ragazzi il tetto come lo facciamo vabbè ragazzi il tetto sinceramente io lo farei proprio tutto in vetro tanto cioè tetto e tetto che cosa ci dobbiamo fare iniziamo intanto a farci un benedetto banco da lavoro e lo mettiamo in mezzo eccola qui la porta poi ragazzi non ci resta altro che prendere un botto di sabbia per fare tutti i vetri 29 pezzi di sabbia 30 vai spero che basti al massimo faccio i pannelli di vetro chi se ne frega poi raga qui dobbiamo farci anche un ponte ora che ci penso io intanto lo faccio di legno normale poi la obbediamo ok bene adesso non mi resta altro che cuoggere tutta la sabbia e ci vediamo dopo eccomi ragazzi i primi 16 pannelli li iniziamo a inserire qui solo che qua è un pochino un problema eh siamo rimasti fregati ragazzi quindi raga ho un'altra idea cioè qui ci mettiamo il legno anche se farà schifo no vabbè dai non fa proprio schifo ci può anche stare poi lo mettiamo anche qui poi altri 16 pannelli ragazzi non piazziamo lì no e che cacchio però ma è finito là dentro sto creeper cavolo non è ancora uscita paolo e ancora però avete rotto e cacchio e ma dove escono tutti quei cacchio di creeper ragazzi izzica ragazzi ho a creeper oggi adesso devo rifare tutto porca tro... ma guardate qua che casino adesso devo rifare tutto da capo che palle raga io non ho mai incontrato così tanti creeper in una volta sono proprio estere fatto da quello che è successo a questo punto qua faccio così ragazzi sinceramente oh già va meglio abbiamo finito il vetro ragazzi boh 48 pannelli dai possono anche bastare speriamo comunque dovrebbero bastare ok messi tutti il tetto ragazzi poi lo faremo io direi che per oggi basta iniziamo al massimo a mettere qualche cesta e poi basta ok iniziamo giusto a mettere le ceste ragazzi faremo ogni due blocchi una cesta ragazzi quindi qui 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 quindi ci sta come magazzino ragazzi questo episodio molto corto perché devo andare io però comunque molto intenso molto intenso perché con tutti quei creeper che sono venuti quindi ragazzi grazie per la visione mi raccomando condividete commentate iscrivetevi al canale lasciate un bel like cerchiamo di arrivare a 10 io vi saluto ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao